Da oggi fino al 30 dicembre, per la seconda volta torna sul litorale romano presso il Palapellicone di Ostia Lido, la manifestazione sportiva a carattere internazionale per club nel settore della ginnastica ritmica. La manifestazione è organizzata dalla società Dinamo Ritmica di Darina Yarish e vedrà la partecipazione di tante società provenienti da ogni parte d'Europa, dalla Spagna alla Grecia, oltre che dagli Emirati Arabi e Ucraina. Saranno 300 le ginnaste in pedana pronte a darsi battaglia e a regalarsi emozioni, con l'obiettivo di ripetere il successo di due anni fa. Il torneo internazionale Rom Cup è destinato al confronto tra le allieve di molti paesi europei. La gara è riservata a tutte le atlete nate prima del 2013 e prevede la suddivisione nelle categorie allieve, juniores e signores.